Posso dire di essere fortemente incavolata per questo ennesimo femminicidio, mi riferisco all'omicidio della giovane avvocatessa di Roma. Siamo in un ristorante romano, è sera, c'è questa cena di chiarimenti, peraltro donne evitiamo questi incontri di chiarimenti che purtroppo non portano a nulla. Degenera questa cena e quindi c'è una lite, l'uomo viene allontanato, fatto uscire, la donna scappa in bagno, telefona al fratello invitandolo a venire a prenderla perché ha paura. E cosa fa il gestore? Invita questa donna a uscire fuori, eh sì, per il buon nome del locale, perché insomma non è bello vedere questa lite all'interno del locale. E quindi la donna esce e fuori chi c'è? C'è ancora il suo aguzzino che spara in pieno petto a questa giovane ragazza di 35 anni. Il fratello arriverà poco dopo quando è troppo tardi. L'assassino è stato preso ed è chiara la pena sarà fine pena mai perché c'è proprio stata una volontà nell'ucciderla, si è portata dietro la pistola. Ma mi chiedo il comportamento del gestore del ristorante perché là dove una giustizia dei uomini non ci sarà perché vuoi o non vuoi un bravo avvocato zizzagherà, ma voglio dire a questa persona ci sarà una giustizia divina. Perché avere per tutta la vita sulla coscienza la morte di una giovane donna, che la si poteva insomma lasciare lì in attesa che arrivasse il fratello, beh insomma credo che sia logorante per tutta la vita. Iniziamo a guardarci attorno e quando capiamo che una persona è in difficoltà, che sia donna, bambino, un anziano, anche un uomo, iniziamo, iniziamo tutti ad aiutare. Basta con questo totale menefreghismo. Oggi è successa un'altra donna, domani può succedere a una vostra sorella, a una vostra mamma, a una vostra amica, a una vostra figlia. Quindi iniziamo a essere meno egoisti, la responsabilità è di tutti, sia ben chiara, la responsabilità è di tutti.